Ben tornati in studio, ne approfitto subito per rivolgere una domanda al collega Corso Viola, uno di questi personaggi che poi sono finiti in carcere aveva già un provvedimento sulla propria testa e doveva scontare una pena se non sbaglio per rapina, come esattamente il fatto? Il fatto che Amin, che poi dopo ha incrociato sulla sua strada il povero Davide Raggi, quella sera a Piazza dell'Ulmo non ci doveva stare, doveva stare in un carcere a Pescara perché doveva scontare un residuo di pena per una rapina compiuta in Abruzzo Questo poi lo vediamo dopo perché riguarda Raggi, abbiamo un filmato specifico per Raggi Io adesso magari invita la regia a mandare il secondo filmato che riguarda un altro caso di omicidio sempre per una rapina in appartamento dove ci ha rimesso la vita la signora Gabriella Listanti Zelli, ecco se puoi mandare il video Terni, gennaio 2015. Una donna di 69 anni, Gabriella Zelli Listanti, viene uccisa nella sua abitazione di Terni, nella zona dell'ospedale. Sul corpo è stata trovata una ferita all'addome provocata da un oggetto contundente. Fin dall'inizio si ipotizza un coltello o un cacciavite. La prima ipotesi dei carabinieri che indagano su quanto avvenuto è quella di una donna sorpresa nel suo appartamento trovato a soccuadro da un ladro o più ladri che poi l'hanno colpita prima di fuggire dalla finestra della cucina che da sul retro dell'abitazione. La stessa sulla quale i militari hanno individuato anche segni di effrazione. La donna è stata rinvenuta all'ingresso dell'appartamento con ancora indosso il cappotto. A dare l'allarme è stato il figlio. L'ipotesi principe, fin dall'inizio formulata dagli inquirenti, è quella di un furto finito male. Una pista privilegiata, vista l'inconsistenza, di altri possibili scenari. I carabinieri del reparto scientifico più volte si sono recati nella casa della donna per nuovi accertamenti. Mia madre sembrava svenuta, seduta in terra piegata su se stessa, ha raccontato il figlio Cesare, che ricostruisce ancora sotto shock gli attimi in cui ha trovato morta la madre, Gabriella Zelleristanti. La porta era aperta, ha detto il figlio, le chiavi sulla toppa. Inizialmente non mi sono accorto che mia madre era ferita all'addome e me ne sono reso conto solo quando l'ho sollevata per soccorrerla. Ho quindi avvertito 118 e 112. In casa era tutto un disordine. Poco tempo dopo viene ritrovato il fucile da caccia robato il 13 gennaio del 2015 nell'abitazione della vittima. I carabinieri del nucleo investigativo non hanno escluso che proprio l'arma possa essere stata usata per colpire violentemente la donna all'addome. Il fucile è stato trovato abbandonato in una proprietà non lontana dall'abitazione della vittima. È stato subito inviato a Ristiroma per gli accertamenti biologici, dattiloscopici e balistici. La svolta delle indagini arriva quando viene arrestata per altri furti nelle abitazioni e nelle ville una banda di albanesi, ritenuti gli autori di una serie di effrazioni. Iniziano quindi gli accertamenti su parte del materiale sequestrato alla banda, per capire se possa essere responsabile anche della morte di Gabriella Zelli Listanti. Vengono comparate le tracce biologiche e digitali rilevate nelle case degli stranieri con quelle trovate sul luogo dell'omicidio. Le indagini sembrano arrivare davvero vicine alla verità. Trapela dalla procura un cauto ottimismo, con gli accertamenti che sembrano concentrarsi su almeno un componente del gruppo. Una banda accusata di oltre 50 furti nella zona. Poi però, nell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari Simona Tordelli, le accuse svaniscono. Viene infatti archiviata l'inchiesta della procura di Terni che vedeva indagati con l'accusa di omicidio volontario quattro albanesi che sono stati prosciolti per la morte di Gabriella. Il GIP Tordelli accoglie la richiesta avanzata dalla procura e respinto all'opposizione avanzata dal legale di parte civile, Marta Gian Santi, che rappresenta i due figli della vittima. Dopo due anni e mezzo questo delitto è senza un colpevole, ha commentato il legale, aggiungendo che i familiari di Gabriella Zelli Listanti sono molto scossi e amareggiati per questa decisione che non si aspettava. Hanno invece sempre sostenuto le stranità, le accuse dei loro assistiti, i difensori degli indagati, gli avvocati Mattiangeli, Proietti, Cerquetti, Quadrini, Paccoi, soddisfatti per la decisione del giudice delle indagini preliminari. Dottoressa Di Loretto, che effetto ha avuto sulla società ternana questa serie di omicidi? Tra l'altro su quattro omicidi due per furti di appartamenti, rapine in appartamenti. Tutte persone di una certa età, tra l'altro, per cui con una efferatezza mostruosa sulla città, sulla paura della gente. Che effetto ha avuto questa ondata di delitti? C'è sempre un certo livello di identificazione con la vittima di aggressioni e di reati. A maggior ragione in una città di provincia come Terni, in cui se non ci si conosce tutti direttamente, comunque c'è sempre la possibilità di conoscenza per interposta persona, per cui chi è stato vittima è sempre il fratello, il cugino, lo zio di qualcuno. Questo colpisce ancora di più chi assiste alla cronaca di eventi come questi. Quando le persone sono indifese come persone anziane, oppure sono coetanei... Cosa incide di più? Il senso di insicurezza o che cosa? Il senso di insicurezza sicuramente è molto cresciuto negli ultimi anni. È difficile per chi è cresciuto in una città nella massima sicurezza, perlomeno a certi livelli, in casa, in un ambiente pubblico con tante persone, pensare che neanche in certe condizioni si può abbassare la guardia, vivere con un livello di allerta perennemente alto. Corso, tu sei ormai decenni che segui casi cronaca. In questo caso, per esempio, hanno fermato degli albanesi che erano già coinvolti in altre azioni criminali, specializzati in furti in appartamenti e in ville, poi rilasciati. Ecco, tu che idea ti sei fatta di questo specifico caso? Questo specifico caso a me qualcosa non è mai tornato. Allora, innanzitutto un inciso, tutti i componenti della banda di ladri, che ha compiuto più di 52 colpi a Terni e provincia, sono già tutti liberi. Questo qua è un piccolo inciso, ma per farvi capire qual è la situazione in questo momento. La maggior parte vive a Terni. In questo caso è mancata la prova regina, perché si sono individuate delle persone che in quel momento potevano essere in quella zona, però non si è riusciti ad incastrarli con la prova regina che è quella del DNA, perché c'è stata la comparazione del DNA che non ha dato i risultati sperati dagli inquirenti. Seconda cosa, il ritrovamento del fucile in una zona isolata, in un campo, che probabilmente è lasciato da qualcuno che è scappato a piedi dal luogo del delitto. Dopo che poco prima aveva sorpreso la povera signora, che l'aveva scoperta mentre rubava, l'aveva colpita in modo molto violento, forse troppo violento per un ladro, e poi l'era fuggito, lasciando subito, abbandonando un passamontagna che usava per non farsi riconoscere. Che significa troppo violento per un ladro? Perché c'è stata una reazione sproporzionata rispetto alla presenza di una signora che era piccolina, fra l'altro abbastanza indifesa, perché malata non si muoveva più come una volta, quindi bastava magari dare una piccola spinta e lasciare l'abitazione, invece la persona sorpresa, il ladro, l'ha colpita violentamente all'addome con il caccio del fucile, con una violenza tale che purtroppo ha provocato delle visioni gravissime che non hanno lasciato scampo alla signora. La violenza inusuale, il fatto che fosse scappato a piedi, il fatto che usasse un passamontagna, c'è qualcosa che può far pensare che possa aver girito magari da solo e non si tratti di una banda ben organizzata. Magari qualcuno che conosceva? Magari qualcuno che forse non è neanche straniero. Quindi qualcuno che conosceva la signora? Qualcuno che forse conosceva o almeno poteva essere qualcuno che lei avrebbe potuto riconoscere perché magari frequentava quelle zone, un tossico dipendente che frequenta l'ospedale lì vicino, il CERT e così via insomma. Per questo le indagini, anche per queste indagini non si è riuscite a incastrare gli albanesi perché è mancata la prova regina. Quante possibilità avevano di passare inosservati in quella stradina? Guarda, era un'ora di transito sia di macchine che di persone. Infatti la signora Zelli stava andando a casa del figlio per andare a trovare il nipotino al quale aveva comprato anche un regalino. Però prima si era scordato una cosa a casa e è uscita ed è ritornata per andare a prendere queste cose perché l'aspettavano a cena poco distante a casa del figlio. Quel cambio di programma improvviso purtroppo è stato fatale per lei perché quando è tornata ha visto la porta aperta, è entrata. Avvocato Cegunelli, la procura ha chiesto sei mesi di proroga per l'indagine perché di fatto ne hanno cavato piedi. Non sono bastati, il delitto della signora va a crescere a lunga lista di delitti irrisolti di questo paese e da parte dell'avvocato Efezio le regole testuali parole piuttosto polemiche. Il giudice aveva disposto un supplemento di indagini che al contrario non sono state svolte e nonostante questo ha cambiato talmente parere su quanto scritto in precedenza nell'ordinanza. Chi è che fa queste indagini? Possibile che una lunga serie di delitti debba finire senza colpevole? In casi come questo le indagini fondamentalmente gli elementi per giungere alle conclusioni obiettivamente non erano tanti perché i veri indizi sono stati il fucile e il passamontagna ma qui il discorso sarebbe stato proprio di prova scientifica ma gli oggetti erano oltretutto anche particolarmente contaminati perché trovati a distanza di giorni per cui anche la prova scientifica non sarebbe stata attendibile. Le indagini sono state indirizzate subito su quel gruppo di albanesi, quella che era chiamata l'operazione Milo, tra gli autori di tutti questi furti. Ecco scusi un attimo ma non è che proprio il fatto di incapunirsi su certe teorie che molto spesso i PM sposano così senza poter sentire ragione e continuare su quella strada abbia poi deviato il corso delle indagini e non ci hanno più capito niente? Questo non possiamo saperlo, sicuramente quella è una strada che è stata presa ma che si sappia altre strade alternative fondamentalmente non ci sono state. Purtroppo ci sono una parte di delitti che sono di difficile soluzione. È chiaro che qui la cosa grave è per la famiglia, qui c'è l'avvocato della parte offesa, forse la parte più inquietante è qui perché qui c'è una parte offesa molto agguerrita, i figli della signora Anzelli con un avvocato di Roma hanno fatto molte richieste, tra l'altro questi albanesi che erano stati arrestati erano stati anche intercettati in carcere e da lì avevano scambiato dei messaggi su cui la parte offesa, la difesa della parte offesa è molto puntato, dove parlavano dell'omicidio della vecchia e parlavano di un fucile che era stato ritrovato. Questi elementi che la parte offesa aveva ritenuto determinanti, la procura ha ritenuto che però non ci fosse un nesso, però qui siamo sempre sulle esigenze di giustizia della parte offesa che ha continuato la battaglia, aveva fatto, perché dopo l'archiviazione è stata fatta opposizione all'archiviazione. L'esigenza di giustizia è da parte della società, non della parte offesa. Da parte della società, sì, in questo caso la battaglia è stata continuata ovviamente da chi era la parte offesa, però è anche vero che l'esigenza di giustizia non significa che bisogna trovare un colpevole a tutti i costi. In questo caso gli elementi a favore, quello che si può dire è che obiettivamente gli elementi, perché qui quello che può essere particolare è il fatto che il procedimento è stato proprio archiviato, perché forse gli elementi a sfavore potevano anche non essere così indeterminanti. Certo, l'archiviazione significa che la stessa procura e successivamente il GIP ritiene che non vi siano neanche elementi, neanche indizi fondamentali per poter andare a un giudizio. Quando qui obiettivamente, perlomeno dalla intercettazione degli elementi messi in evidenza e resi pubblici dalla parte offesa, forse gli elementi di giudizio avrebbero potuto esserci, però chiaramente la procura avrà fatto l'indagine che ha ritenuto. Corso, una via che in quell'ora era trafficata, una via che la signora è conosciuta quando parla, era molto conosciuta. Molto conosciuta perché era una frequentatrice della parrocchia, la conoscevano tante persone, frequentava persone anche con problemi, con disagi che frequentavano la parrocchia, secondo me le indagini sono state indirizzate subito verso un unico verso e non si è andate a cercare delle piste alternative che potevano esserci benissimo, secondo me, perché non è possibile che alle sei di pomeriggio o alle sei, sei, cinque di pomeriggio nessuno abbia visto qualcosa di strano, abbia visto un movimento, abbia visto qualcosa di anomalo da raccontare agli inquirenti. Ci fermiamo per un paio di minuti di pubblicità, poi riprendiamo da dove siamo lasciati.